Le strisce bianche sono ingannevoli e il giudice di pace accoglie il ricorso faidatei dell'automobilista multato due volte in un giorno. Accade nel comune di Avezzano ma la sentenza pilota è stata emessa dal giudice di pace di Sulmona Alberto Paolini che boccia il sistema sanzionatorio del comune di Avezzano che viene condannato anche al pagamento delle spese del multato. 43 euro per il ricorso faidatei di EDC. L'automobilista pizzicato per ben due volte lo stesso giorno di febbraio all'incrocio tra via 20 settembre e via De Fiori. La sentenza, la prima relativa alle migliaia di sanzioni per le strisce a terra ad una regola d'arte, rischia di trasformare la contestata azione sanzionatoria del semaforo in un pericoloso boomerang per l'amministrazione comunale di Avezzano. Il ricorso in auto tutela, afferma la sentenza emessa dal sulmonese avvocato Alberto Paolini, seppur rientrante nelle concrete possibilità del ricorrente, non rappresenta un passaggio obbligato ma una facoltà del cittadino e la scelta dei mezzi di impugnativa previsti dalla legge, ricorso in auto tutela, prefetto, giudice di pace, avverso verbale di contestazione e di violazione del codice della strada e rimessa alla completa discrezionalità del privato. Insomma ogni strada è lecita per impugnare una sentenza ritenuta ingiusta, per il comune però la sconfitta più pericolosa è nel merito. Dall'esame della documentazione in atti, mettenero su bianco il giudice di pace sulmonese Paolini, è emerso in primo luogo che sussiste una doppia segnaletica orizzontale di arresto, l'una più marcata alcuni metri prima del semaforo, un'altra quella originaria più prossima a semaforo. Benché il comune sostenga che la segnaletica originaria sia stata cancellata da tempo e dall'usura e che allo stato attuale sia stata definitivamente neutralizzata mediante leggere scoriazioni, in realtà dalla visione delle fotografie in atti, la vecchia segnaletica risulta essere ben visibile quantunque sbiadita e idonia a trarre l'inganno gli utenti della strada. Altra questione di battuta, la distanza dall'aria incrocio lato Avezzano che aumenta con l'arretramento delle strisce, una sentenza pilota emessa da un avvocato di Sulmona.